Buongiorno innanzitutto, do io il benvenuto in questo bellissimo museo anche se la padrona di casa è Giovanna Valadino, poi ci racconterà un po' anche di questo progetto. In realtà l'occasione di oggi è proprio per riflettere su un tema che insomma dovrebbe essere centrale per tutte le fasce d'età ma soprattutto per i giovani per dare loro maggiore consapevolezza cioè l'educazione finanziaria e quanto questo tema si lega proprio con la conoscenza e con la libertà perché poi alla fine è la libertà di decidere anche insomma è la libertà di saper decidere delle proprie finanze. Quindi io insomma partirei subito presentandovi i nostri relatori di oggi che avranno sicuramente sul tema sono le più esperte che ci sono quindi innanzitutto Giovanna Valadino appunto che è la direttrice del museo degli sparmio, economista da sempre impegnatissima su questi temi soprattutto anche poi per quelle che sono i temi legati alla differenza di genere, le donne, il rapporto delle donne con l'educazione finanziaria, dei migranti, dei minori e poi la professoressa Elsa Fornero e il professor Daniel Previati che è professore di economia e presidente di Asteneb di Uni Roma 3. Io Giovanna partirei subito proprio con questo concetto, come si può legare, come si può parlare di educazione finanziaria e quanto l'educazione finanziaria sia centrale poi legandoci al tema del festival per la nostra conoscenza? Non è facile parlare di educazione finanziaria perché è un argomento che di per sé non è molto attraente, parlare di denaro oppone sempre tutti, anche quelli che come noi ci lavorano e quindi in una certa difficoltà, non è un po' perché lo dico sempre se ce n'hai poco ovviamente ti manca quindi parlarne non è che fa piacere, se ce n'hai tanto magari lo gestisci male, lo vorresti gestire meglio e quindi anche lì non è tutto questo piacere a parlarne e per riuscire a parlarne in maniera costruttiva bisogna cercare di alleggerire il tema, questo è stato un po' anche il fil rouge del museo, il museo è un posto dove si riesce a parlare di denaro in maniera leggere o lieve, dove si può allentare quell'ansia finanziaria che coglie tutti attraverso un cartone emato, un gioco, uno scherzo che può essere sottostante anche lo stesso video. È una cosa complicata onestamente, noi ci tentiamo da più di dieci anni, tentiamo di fare questo lavoro, di allargare il nostro si dice outreach, di allargare la nostra platea, la nostra fan base, diciamo così, non è facilissimo, proprio per quello che ho detto prima. Bisogna appunto essere molto motivati nel farlo, noi abbiamo una mission che sentiamo, la mia e tutto il mio team insomma sentiamo molto come nostra, quella di far comprendere quanto anche sia divertente parlare di denaro non ha una connotazione negativa e quindi si può parlare di denaro divertendosi ed è per questo che noi abbiamo tantissimi giochi, videogiochi, laboratori giocosi per i ragazzi, giochiamo anche quando parliamo di denaro con le donne, cerchiamo di, abbiamo addirittura delle sitcom, quando parliamo di denaro con le donne abbiamo due dei miei collaboratori che impersonano il maschio e la femmina e quindi cercano di rappresentare quelle che possono essere le situazioni anche di difficoltà che possono nascere all'interno delle famiglie delle coppie. Quindi la vera idea che abbiamo portato avanti è quella di alleggerire il tema. Siamo in tanti che ce l'occupiamo, all'inizio qualche anno fa c'era la professoressa Fornero che devo dire è sicuramente una pioniera, è un punto di riferimento per me perché non è facile anche dal punto di vista della reputazione riuscire a mettersi in gioco su questi temi perché appunto non sono temi, non è la scienza, non sono i buchi neri, non sono le asteroidi bellissime, non è Pompei per fare un esempio concreto, quindi alla fine tutto questo afflato nei nostri confronti spesso non c'è. Lei però sicuramente è stato un punto di riferimento per me, proprio per la tenacia che ha mostrato sempre su questi argomenti e anche sugli argomenti più spinosi, perché quando parliamo di denaro parliamo di consapevolezza e di assunzione di responsabilità nella gestione dello stesso. Assunzione di responsabilità significa prendersi anche i lati diciamo così meno positivi delle scelte, quindi risparmiare significa fare delle scelte che talvolta non sono facilissime, implicano, non voglio parlare sacrifici perché la parola sacrificio non mi piace, però implica scegliere se fare una cosa adesso o non farla o fare un'altra domani, quindi è sicuramente un argomento difficile, quindi io vi ringrazio per essere qui oggi perché non mi aspettavo così tanto a platea, pensavo quando vedo un'educazione finanziaria sicuramente allenare le competenze che gli ha tirato, la parte più fisica, però non è facile veramente parlarne, adesso siamo di più, finalmente si è sdoganata l'idea che questo argomento sia importante, non mi piace la parola educazione finanziaria perché per la maggior parte delle persone non è un concetto ben conosciuto, mi piace più l'idea dell'economia personale che non è l'economia dovestica, è l'economia che serve a noi come cittadini e per questo il titolo è per essere cittadini liberi, quando siamo chiamati a scegliere, in qualsiasi scelta siamo chiamati a fare degli ragionamenti di tipo economico, sempre e quindi avere la capacità di gestire il proprio denaro, di capire le conseguenze di questa gestione significa essere liberi. Processe appunto parlare di libertà legata all'economia, all'educazione finanziaria, cosa vuol dire? Perché è così importante anche proprio per autodeterminarsi banalmente? Assolutamente sì, buonasera a tutti e a tutte e anch'io sono molto contenta che ci sia pubblico perché io ho sperimentato tantissimo quanto si faccia fatica a far passare questo tema suscitando un vero interesse. Io è tanto che mi occupo di questo, me ne sono occupata perché anch'io ho avuto i miei riferimenti, il mio riferimento è stata Anna Maria Lusardi che è un po' la madre nobile della quella che si chiama in americano financial literacy, poi noi troviamo che il termine finanziario sia per noi troppo stretto e io di questo sono assolutamente convinta e literacy che si traduce alfabetizzazione è sempre lievemente antipatico perché come dire ma allora voi presupponete che io sia un ignorante totale, che io sia un analfabeta e quindi allora lì è stata in effetti Anna Maria Lusardi che mi chiese un contributo per un libro e noi facciamo questo contributo, devo dire tra l'altro che quello è l'articolo tra i più citati dei miei queste cose di citazioni internazionali che cercava di dimostrare se avere una conoscenza finanziaria di base era un fattore importante per la scelta dei lavoratori e delle lavoratrici di partecipare a un fondo pensione. I fondi pensione erano all'inizio, erano descritti dai giornali come la panacea di tutti i mali perché lì si sarebbe realizzato di tutto, noi siamo sempre così, un paese che è in emergenza, sempre, si capisce siamo sempre in emergenza, al tempo stesso ogni cosa nuova sembra che sia in grado di risolvere tutto o di sconvolgere tutto. L'intelligenza artificiale adesso è così. Allora io feci questo articolo con una giovane collega che tra l'altro adesso è capo all'Ocse, capo all'Ocse del Dipartimento che si occupa di economia finanziaria perché l'Ocse se ne occupa molto sul piano internazionale e lei ci lavora ormai, è diventata capa e di lì è cominciato qualcosa che poi si è sviluppato, a partire poi dall'esperienza perché all'inizio, io facevo il professore essenzialmente, lo trovi un tema, dici dove si può fare anche ricerca? Però poi ti accorgi che è molto di più, ti accorgi parlando con le persone che spesso mancano le basi per scegliere. Lei prima ha detto scelte finanziarie ma è molto di più perché l'educazione, questo tipo di educazione economico-finanziaria è importante anche per decidere quale tipo di istruzione scegliere nella vita. Noi abbiamo anche scritto dei libricini, puoi scegliere sulla base di ciò che ti è detto al cuore, le preferenze, la passione, però magari se ci metti anche un calcolino vai a vedere ma se io faccio questa scelta ho più chance o meno chance di trovare un posto di lavoro, ho più chance o meno chance di fare carriera, ho più chance o meno chance di guadagnare nella mia vita quanto mi basta per vivere una vita buona e per accumulare magari il risparmio che mi serve anche per l'età anziana. Questa è una scelta, poi c'è quella del risparmio, c'è quella degli impieghi, c'è quella della casa, comprare la casa piuttosto che, e quindi fare un mutuo, piuttosto che andare in affitto. Ci sono elementi base che un po' di economia e finanza ti permette di avere. Però poi è successo anche nella mia vita, ogni tanto queste cose succedono, di trovarmi a svolgere un ruolo, ad avere un ruolo di grandissima responsabilità che non implicava solo scelte per me o per la mia famiglia, ma implicava scelte per il paese, scelte per la collettività e questa è una cosa difficilissima. E poi sulla base di quell'esperienza io mi sono accorta che le riforme in campo economico possono essere completamente, completamente malinterpretate, non capite. Allora c'è bisogno di una educazione economico-finanziaria di base, ripeto sempre di base perché nessuno vuole far diventare tutti economisti, per comprendere le decisioni di politica economica che il governo fa. Se non le capiamo e troviamo qualcuno che dice ah che cosa orrenda hanno fatto lì, noi siamo portati a pensare che abbia ragione ed è più difficile far passare il messaggio, beh era la cosa giusta da fare anche se fatta con errori, però era importante. È difficile far passare il messaggio che se il governo spende qualcuno deve pagare, perché quando la politica ti fa immaginare che non ci siano costi ma soltanto benefici, beh tu ci puoi cascare, puoi dire oh guarda un po' qui, questo qui è trovato la bacchetta magica, però noi sappiamo che le bacchette magiche sarà prosaico stare coi piedi per terra invece che volare, bene, beh però lo sai che se il governo spende in un certo modo non ha quei soldi per spendere in un altro modo, quindi magari ti viene il dubbio che spendere per anticipare l'età di pensionamento sia poi quella cosa buona che ti permette di dire vabbè tanto la salute, se vanno in pensione giovani stanno tutti meglio in salute e non abbiamo bisogno di spendere per la sanità. Forse ci si accorge che esiste questo scambio, quindi uno si domanda ma forse potremmo spendere quei soldi per esempio per l'istruzione, per esempio per la sanità, per esempio per le politiche che fanno lavoro per i giovani e uno si domanda già ma se quelli mi dicono ah dobbiamo fare un provvedimento per la pensione dei giovani e tu gli dici guarda che forse è meglio fare qualcosa per il lavoro dei giovani perché se i giovani lavorano la pensione ce l'avranno, se gliela promettete così ma non c'è lavoro o non ce n'è abbastanza o non è pagato voi fate le promesse che volete ma poi mancano le fondamenta, sono concetti piccoli, semplici che si possono convogliare in maniera anche semplice e la mia esperienza personale perché io in questi anni ho fatto tantissimi incontri nelle scuole, con le associazioni, con le parrocchie, con tutto e la mia esperienza è che le persone comprendono non hanno bisogno di comprendere la tecnicalità ma comprendono le cose e questo fa parte quindi sono scelte pubbliche ma le scelte pubbliche, se un po' di educazione finanziaria magari ci aiuta a scegliere meglio politicamente nel momento del voto non scegliere quelli che promettono tutto e tutti che non sono credibili e sono dei populisti ma scegliere quelli più seri che ti dicono se vogliamo fare questo dobbiamo trovare queste risorse Grazie professore, lei sono 40 anni anche che si occupa di questo tema innanzitutto qualcosa è cambiato c'è aumentata forse la sensibilità delle nuove generazioni c'è forse qualche miglioramento da questo punto di vista Allora, io mi occupo da molto tempo, sì, in effetti Hai piaciuto la data qui No, no, ma non c'è nessun problema tra l'altro anche nella presentazione che ho mandato per il festival c'è scritto che io ho scritto un libro nell'84 che si intitolava Economia del risparmio familiare tema molto tradizionale allora partirei da lì in realtà il tema come diceva anche il professore Saffornero e prima Giovanna non è assolutamente nuovo il tema è la sensibilità di fronte a questo tema Io credo che se da un lato noi dobbiamo dare attenzione al profilo di allenare le competenze individuali quindi le competenze cosa sono? Conoscere e saper fare e acquisire anche come dire usando la metafora una forza fisica non solo fisica ovviamente in questo caso una forza intellettuale per comprendere le informazioni relative alla gestione del nostro denaro a livello individuale a livello familiare a livello sociale perché questo è un tema secondo me molto affascinante noi abbiamo fatto ultimamente sono state fatte molte indagini in Italia noi da queste indagini salta fuori ad esempio che per rispondere alla domanda i giovani sono abbastanza attenti a questo tema ma quali giovani? perché il tema secondo me non è l'età noi ci stiamo dimenticando molto spesso che c'è un tema di distribuzione di equità di condizioni di partenza e qua visto che lo dice il nostro Presidente della Repubblica io con grande umiltà lo dico basterebbe prendere alcuni articoli della Costituzione e cercare di metterlo in pratica piuttosto che cercare di cambiarla e tra questi c'è ovviamente il tema del diritto all'educazione in tutti i campi e sicuramente un'educazione nella gestione del denaro della ricchezza familiare è importante e secondo me non è un dato solo individuale ma è soprattutto un dato sociale è un bene pubblico è un bene pubblico vuol dire che è un bene sociale di comunità più o meno grandi e allora i giovani cosa salta fuori dalle indagini in particolare le tre indagini che ha fatto il Comitato per l'educazione finanziaria sotto la direzione di Anna Maria Lusari che ha avuto anch'io il piacere di conoscere ho collaborato a queste indagini abbiamo fatto tante call come si dice perché eravamo sparsi per l'Italia e che cosa veniva fuori? Veniva fuori un dato purtroppo che ci deve poi ci sono le domande successive ma soprattutto spero le domande del pubblico ci metteva di fronte a una realtà cioè giovani non giovani tutti coloro che erano più interessati agli interventi di educazione finanziaria formalizzati in qualsiasi modo da privati dal pubblico eccetera erano persone che avevano già un livello di conoscenza finanziaria superiore alla media del campione cosa vuol dire questo? vuol dire che non stiamo riuscendo a raggiungere le persone che ne hanno più bisogno questo è un tema di equità è un tema poi che va portato nella realtà, nel concreto e qua lancio un ultimo tema e mi fermo perché non voglio rubare troppo spazio il tema dell'educazione finanziaria nell'educazione civica voi sapete che con un provvedimento recente è stato introdotto l'educazione finanziaria nell'educazione civica in tutti gli ordini scolari tutti gli ordini della nostra scuola il tema è chi insegna esatto chi insegna come insegna che cosa insegna allora qua nessuno ha io per primo lo dico con grande umiltà la ricetta però occorre fare una riflessione purtroppo mi unisco un po' alla lamentela dal professore Saffornero noi siamo un paese che ha una grande predisposizione alla norma normiamo riformiamo le norme abbiamo meno attitudine a verificare che le norme siano rispettate e soprattutto non ci rendiamo conto che la norma dovrebbe essere allineata anche a un orientamento valoriale allora la gestione del denaro è lo dico da economista e quindi porto dentro anche altri campi del sapere in realtà è il portato di uno sforzo collettivo valoriale adesso non voglio farvi venire la lacrimuccia soprattutto a quelli più grandi qui oggi presenti però un tempo la nozione di risparmio era qualcosa che era abbastanza naturale in molte comunità in molte famiglie oggi lo è molto meno paesi come l'Italia e il Giappone non so spiegarvi il perché alcuni l'hanno studiato più sociologi che gli economisti sono stati per tanti anni i paesi a più alto tasso di risparmio contrariamente ai paesi anglosassoni che viceversa hanno il fenomeno del sovraindebitamento anche a livello familiare non solo perché sono più spendacioni ma perché vivono in sistemi sociali regolati diversi diversamente l'educazione finanziaria e qui chiudo non può trattarsi solo come tema specialistico ma deve essere calato nella realtà socio-economica dei paesi e a livello internazionale perché sono più orientati all'indibitamento voi sapete qual è il sistema di creazione del reddito negli Stati Uniti e il sistema sanitario ad esempio negli Stati Uniti per fare un esempio ovviamente del paese di uno dei paesi di riferimento e quindi insomma i giovani i giovani secondo me seguono questo allora di che giovani stiamo parlando perché questo è un po' il problema lo esprimiamo in un termine terribile di marketing il target cioè chi è l'oggetto dell'educazione finanziaria sono i giovani gli anziani ma che tipo di giovani i giovani che frequentano l'università che frequentano le scuole medie superiori i giovani che si fermano nel grado di istruzione alla terza media e poi vanno a lavorare queste sono domande secondo me importanti poi vorrei anche una reazione da parte del pubblico e qualche domanda grazie c'è il microfono così no io l'altro l'altro spunto che volevo raccogliere era proprio quello del chi forma i formatori perché diventa un tema centrale anche soprattutto nella scuola magari pubblica perché basterei un po' il target anche già ragazzi delle medie sarebbe utile ancora prima probabilmente agli elementari come insieme anche gli ultimi libri di Giovanna Valadino quindi volevo proprio chiedervi questo proposito come si può risolvere questo problema quali quali prospettive ci possono essere e anche un po' quello che deve essere il ruolo del pubblico e il ruolo del privato nel nel divulgare nell'insegnare nel dare prospettive di economia finanziaria c'è uno spazio per il pubblico e per il privato lo dico prima perché insomma secondo me su questo campo la collaborazione è fondamentale ovviamente ci possono essere conflitti di interesse i conflitti di interesse devono essere prevenuti non è un caso che qui siamo in un museo di una banca perché il museo di risparmio non è insomma nascosto da nessuno è stato sostenuto ed è finanziato da Intesa San Paolo ma è un'attività puramente educational che risponde solo al Presidente che non è un esecutivo quindi non ci sono contatti con nessun'altra parte della banca se non il Presidente questo significa che in qualche maniera è protetta da qualsiasi altra pulsione che potrebbe essere considerato questo significa che quello che c'è qua non ha riferimento al marketing non ha riferimento a prodotti specifici di alcuno ed è questo sicuramente importante quindi il privato può operare nel momento in cui assicura che il conflitto di interesse è stato preso in considerazione e risolto anche il pubblico ha un conflitto di interesse però quindi il conflitto di interesse non è parte del settore privato ce l'hanno tutti ce l'ha chiunque quindi va risolto prima va definito come è stato risolto sulla formazione dei formatori e poi passo la parola agli altri ospiti noi lo facciamo da tanto tempo formiamo gli insegnanti non solo voglio dire cercando di offrire loro dei percorsi che possono poi riprodurre all'interno delle classi noi addirittura abbiamo gli script questo per aiutare persone che non sono diciamo economisti a fare questo lavoro forniamo materiali laboratori dove c'è addirittura la sceneggiatura cioè quello che è il conduttore il tutor deve insomma raccontare in classe questo è un grande aiuto per l'insegnante ovviamente noi siamo anche qui per accogliere le classi quindi per fare in modo di avere gli studenti all'interno del museo io ritengo che i bambini delle elementari a partire dalla prima elementare possono essere assolutamente diciamo così coinvolti in un discorso legato al denaro tra l'altro mi viene in mente perché qui c'è Elsa che abbiamo fatto un collaboratorio per bambini piccolissimi di sei anni proprio su quello che è il valore del denaro ed è tra l'altro e veramente qui chiudo per i bambini più piccoli la grande soddisfazione che noi abbiamo è che sono scedri da una sovrastruttura che gli adulti hanno i bambini piccoli considerano denaro un mezzo che vogliono imparare a usare per raggiungere un obiettivo quindi una volta che gli siano stradati su questo percorso non hanno altri preconcetti i preconcetti ce li hanno i genitori gli insegnanti le persone adulte di fatto io continuo a dirlo dicendo una banalità ma il denaro è un mezzo non è un fino una volta che abbiamo chiedito questo siamo già un bel passo in avanti per me ecco Giovanna ha toccato il tema centrale che noi abbiamo una serie di elementi ideologici che caratterizzano l'approccio nei confronti del denaro io faccio questo esempio voi sapete che io sono stata molto attaccata in particolare da un capo di un partito che si chiama la Lega però un giorno mi è capitato di ricevere una telefonata non l'ho mai resa pubblica soprattutto non l'ho mai resa nota al capo del partito da un leghista non dirò il nome ma se volete poi ve lo dico in privato allora il quale mi dice professoressa io devo farle molti complimenti per l'articolo che ha scritto oggi e quell'articolo era un articolo sulla stampa in cui io molto garbatamente sgridavo tra virgolette Michele Serra il quale Michele Serra aveva scritto a sua volta un articolo molto critico nei confronti di una proposta di disegno di legge per introdurre l'educazione economica finanziaria nelle scuole quindi lui aveva con la capacità che lui ha di scrivere in maniera spiritosa aveva ridicolizzato quella proposta e io ho detto beh mai penna capace fu indirizzata a uno scopo così sbagliato e quello è un po' devo dire l'approccio della sinistra parlare di denaro è volgare riguarda cose della vita che possono avere a che fare con temi come lo sfruttamento parlare di denaro è anche sconveniente forse dal punto di vista religioso perché non vogliamo mica incoraggiare l'avidità quindi c'è in molti ambiti un approccio che non è conoscitivo e basta pragmatico il denaro è uno strumento e questo è importante perché ci riporta al tema delle scelte di prima cerca di avere gli obiettivi e poi cerca di comportarti in modo da avere le cose che ti permettono di raggiungere quegli obiettivi ma è un tema comunque che va sfrondato da molti molti preconcetti e purtroppo questi preconcetti sono molto diffusi anche tra gli insegnanti e questo è un po' rischioso perché stiamo parlando di alfabetizzazione allora sì io devo insegnare a una persona a leggere a scrivere a fare a conoscere le tabelline a fare delle moltiplicazioni e divisioni non ci metto una visione ideologica perché sono strumenti che servono a vivere devo poter mettere la mia firma devo poter leggere un documento che devo firmare allora non c'è ideologia di mezzo purtroppo invece con le questioni che hanno a che fare con l'economia anche personale la gestione della finanza questi elementi ci sono e permiano molto allora quello che voglio dire è che qui stiamo parlando di educazione finanziaria ma non è che si fa un percorso di ricerca accademica con pubblicazioni anche che hanno rilievo accademico così scrivendo come capita o scrivendo le cose che scrivi magari su un giornale no si fa ricerca e la ricerca è valutata allora quello che io voglio dire c'è stato un percorso che ha portato a definire la educazione economico finanziaria di base la definiamo quindi delimitiamo i contorni poi possiamo allargarli ma partiamo da quello che è la parte di literacy alfabetizzazione definiamo misuriamo quindi non è che diciamo il 20% è edotto e l'80% è analfabeta così facciamo sondaggi facciamo prove misuriamo non è facile tutte queste cose sono state fatte per esempio un elemento che viene sempre fuori è che le donne sanno sempre meno qualunque età e voi qui la domanda diventa difficile perché uno dice ma cosa sarà una questione di cervello nessuno ci crede almeno quelli intelligenti non ci credono vero signora noi non è una questione di opportunità e anche di piccole cose che si insegnano da bambini perché se tu tratti diversamente le bambine fin dai primi anni e invece i maschietti li indirizzi subito nella su certe cose che sono considerate più in effetti maschili ma i giochi si cominciano a fare lì poi per esempio io ho fatto una volta un lavoro che mi è molto piaciuto fare con delle colleghe linguiste l'abbiamo fatto per la nostra lingua e anche per l'inglese abbiamo cercato di capire quali come si dice quali distorsioni bias si dice quali distorsioni ci sono nel linguaggio finanziario base che possono allontanare le donne più che non gli uomini e si chiamano distorsioni linguistiche allora le linguiste che avevamo insieme hanno metodologie per capire se le metafore che si usano nel linguaggio finanziario sono per l'appunto basate su campi che sono prevalentemente maschili oppure che richiamano cose femminili e vi posso dire che nella finanza sono tutti lì e infatti lo potete anche immaginare perché la finanza usa molto il linguaggio guerresco cioè ci sono sempre le battaglie ci sono sempre le lotte ci sono sempre le vittorie è sempre un po' di questo tipo oppure sportivo ma sportivo del tipo piuttosto calcistico e le donne sono arrivate al calcio sono arrivate al calcio molto recentemente ecco e questo bias linguistico cosa crea? Crea familiarità nell'uomo un po' più di familiarità e un po' più di distanza dalla donna quante volte sentiamo dire no ma io di quello non capisco niente magari non è vero e questo è di nuovo è ricerca quindi hai definito misurato cercato di capire i meccanismi altro meccanismo che si è studiato empiricamente è il fatto che le donne usano spesso la risposta non so perché? perché si sentono più insicure perché il meccanismo tradizionale è che le donne sono sempre molto più valutate che non gli uomini e quindi sono più insicure e allora tendono a rispondere non so per paura di sbagliare anche quando non sanno infatti l'esperimento che si è fatto è di dire togliamo la possibilità di rispondere non so allora si vede che le donne che rispondono in maniera corretta alle domande sulla conoscenza finanziaria si alza vuol dire che il timore le spinge invece i maschi sono più arrogantelli e quindi loro rispondono sì sì le ho sicura ma non so se i risk taker no no sono proprio un po' più arrogantelli cioè sono sempre più sicuri anche quando non sanno cercavo di difendere la categoria no 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 sono in minoranza tra l'altro è indifendibile sì allora diciamo che è proprio un po' no ma queste sono fra l'altro ricerche dove ci sono anche di psicologi sociologi e quindi questi comportamenti il maschio siccome ha potere è per definizione più sicuro perché il potere aiuta invece le donne hanno sempre meno potere sono più giudicate quindi anche in questo campo rivelano atteggiamenti per cui ciò che le allontana dalle conoscenze di base ha poi degli effetti sulle loro scelte che in genere sono e finisco con questo la cosa che è molto importante proprio per le donne e che fa parte dell'educazione finanziaria di base è questa abbiamo detto obiettivi dice Giovanna per raggiungere degli obiettivi propri che una persona si dà sperabilmente conseguibili ci vuole l'indipendenza e l'indipendenza viene dal lavoro perché non nasciamo ereditieri poi anche se nascessimo c'è qualcuno che ce la deve lasciare l'eredità quindi ti può sempre togliere il qualcuno che ti lascia come è successo ai figli di Bill Gates no mi pare allora bisogna che ci sia questa consapevolezza degli obiettivi che cosa voglio io nella mia vita poi non è detto che si raggiunga cosa devo avere per raggiungere questi obiettivi a cosa devo rinunciare perché per esempio se voglio fare che so io il medico devo studiare molto e vuol dire che devo rinunciare a qualche partita questo è è parte dell'educazione finanziaria perché dentro l'educazione finanziaria di base c'è un elemento che è il tempo e sapere quanto il tuo tempo usato in un modo implica una perdita da un'altra parte è una cosa che si può insegnare ai bambini quindi non è soltanto non sono soltanto parole ci sono c'è tutta una ricerca dietro il cui ultimo capitolo è di valutare le politiche valutare chi insegna valutare i diverse le diverse modalità di approccio all'insegnamento scoprire le cose che possono funzionare come benchmark cioè quelle che funzionano meglio che non è detto siano universalmente le più valide proprio perché poi ci sono differenze come dire geografiche storiche di preferenze che vanno sempre considerate io ho in mente un'altra domanda ma apri un spunto dalla professoressa Polnero perché volevo ribattere un concetto che ci siamo detti un po' di volte e che a me da mamma ha molto molto incuriosito e mi è molto interessato cioè che le differenze nella percezione anche nell'educazione finanziaria ma solo nella percezione del denaro partono dalla paghetta dalla differenza tra uomo e donna della paghetta che è un aspetto che da mamma di due maschi mi ha molto colpito io non parlo per sentito dire sulla paghetta la professoressa Fornero è un guru però in realtà io parto da delle indagini che facciamo cioè proprio quello che diceva prima Elsa cioè lavorare in questo campo significa essere umilmente capace di raccogliere dati e analizzarli perché non parliamo qua adesso sembra sembra che parliamo in astratto in realtà tutto quello che stiamo dicendo è basato su delle ricerche su dei numeri su dei paper quindi voglio dire su delle ricerche anche statisticamente complesse per quanto riguarda la paghetta quello che è venuto fuori nelle nostre indagini che abbiamo fatto sui ragazzini è venuto fuori che in realtà gli adolescenti ci hanno detto soprattutto gli adolescenti femmine ci hanno detto che ricevevano la paghetta in percentuale inferiore non la montare ma le percentuali di femmine che ricevano la paghetta erano meno delle percentuali dei maschi non era una mancanza di soldi quindi questa era la cosa che a me devo dire ha stupito di più e anche mi ha in qualche maniera colpito non si facevano mancare i soldi alle figlie ma i soldi venivano dati su richiesta più facilmente alle figlie che ai maschi cosa significa questo come l'ho interpretato io penso che possiamo condividere questa interpretazione la bambina chiede perché vuole una cosa e chiede ai genitori quella cosa chiedere io non ho mai visto concedere niente andando con il sorriso di Hannibal de Cannibal no? cioè chiedi chiedi in maniera gentile no? chiedi in maniera cortese chiedi in maniera compiacente come se è bella mamma come se è bello papà oggi no? io voglio un certo papino mamina insomma quindi in realtà si insegna una compiacenza al maschio si dà la paghetta che la paghetta cos'è? non è tanto per la montagna la paghetta se è la vera paghetta significa insegnare ai ragazzi ad essere autonomi perché la paghetta vuol dire che ti do dei soldi e li gestisci tu anche se sbagli no? insomma gli educatori ci dicono che la paghetta se sbagli sono fatti i tuoi quindi significa che ti sei usato tutti i soldi per comprarti 150 pacchetti di patatine ti verrà il mal di pancia sicuro ma poi è un problema tuo non c'è più soldi sono fatti i tuoi io non intervengo più quindi è uno strumento educativo potentissimo dal punto di vista dell'autonomia nella gestione del denaro e la professoressa Fornera ha scritto un paper che è ancora più l'ingimirante perché lei ha trovato che chi ha avuto la paghetta in realtà ha un migliore gestore del proprio denaro da adulto quindi non è un effetto solo immediato è un effetto di lungo periodo quindi invito tutti quelli che sono nonni genitori di bambine a dare la paghetta esattamente come la danno lo stesso a montare dei figli maschi perché significa aiutarle a diventare autonoma e la paghetta si dà indipendentemente da tutto è un reddito di cittadinanza la paghetta la si dà punto perché significa usare uno strumento per educare i nostri i nostri figli a essere cittadini liberi ho visto che la signora ha dato la mano quindi le sporgo il microfono allora però parla a voce alta era un'osservazione sul significato del linguaggio usato in campo economico finanziario chiaramente maschio e guerresco ma lo stesso linguaggio viene usato in campo medico combattere il cancro e quindi questo significa una cultura patriarcale e la seconda invece una domanda esistono articoli ricerche sul relazione tra il risparmio personale per i propri obiettivi e la consapevolezza che i propri obiettivi hanno un riflesso e un'intersecazione con la società civile è una domanda la domanda più difficile devo rispondere va bene ci provo allora la domanda è molto interessante perché riprende una mia linea di pensiero che ho rispesso anche prima allora in realtà molto lavoro viene fatto attraverso delle indagini che vengono rivolte a individui ora nell'ultima indagine in particolare del comitato ma in generale la letteratura scientifica si sta spostando molto negli ultimi direi ma difficile anche qui dare una data ma insomma diciamo gli ultimi tre cinque anni cinque anni più o meno sul legare i temi di consapevolezza finanziaria chiamiamola così con un altro termine ombrello che viene molto utilizzato ultimamente che è sostenibilità allora la sostenibilità non è solo come noi sappiamo ambientale ma è anche sociale e tra l'altro esistono degli strumenti da tempo peraltro che sono legati a delle prestazioni sociali strumenti finanziari intendo per esempio delle obbligazioni e anche i cosiddetti modelli di governance cioè se il governo delle organizzazioni delle imprese ma anche delle organizzazioni non imprese trovano una rappresentanza equilibrata della biodiversità culturale e di genere attenzione perché io ho detto di genere ma il genere è non solo il genere sessuale o la scelta che ciascuno di noi ha fatto di orientamento sessuale ma è anche una differenza in molti paesi nel nostro un po' meno ma in molti altri paesi è assolutamente legato alla biodiversità culturale perché le persone provengono da culture diverse hanno religioni diverse questo ha un impatto per rispondere alla domanda non sono molti gli studi che almeno a mia conoscenza indagano quella relazione quella relazione a mio avviso può essere studiata e sta per essere studiata nel momento in cui si cerca di porre relazione attraverso delle misure come diceva il professor Safforneo delle misure di alfabetizzazione finanziaria con l'orientamento la consapevolezza ai diversi tipi di sostenibilità che cosa si trova? si trova come diciamo una relazione statisticamente significativa ma ancora una volta torniamo al discorso di prima chi sono le persone più alfabetizzate e più consapevoli dal punto di vista ambientale sociale e relativo ai modelli di governance delle imprese scusate sono molto come dire dritto Giovanna mi conosce forse mi ha invitato anche per quello perché forse essere dritti nei dibattiti pubblici è la cosa migliore e tra l'altro sono in ottima compagnia e sono veramente contento di essere accanto al professor Safforneo che per la prima volta ho conosciuto personalmente stasera ma insomma la sto molto apprezzando conoscendola dal vero è il tema della disequilibrio della iniquità profonda adesso io mi tolgo dalla mia idea del mondo però il dato di fatto visto che il dato di fatto è importante per noi economisti il dato di fatto è inequivocabile il mondo dal punto di vista di alcuni dati è migliore di quello di cento anni fa però è comunque un mondo che resta troppo inique e disequilibrato quindi il rischio che io vedo anche in certi orientamenti all'educazione finanziaria è quello di puntare molto all'individuo all'ottenimento del successo individuale a discapito di non a discapito perché non è necessariamente a discapito però che non tiene necessariamente conto e ve lo dico con un esempio molto concreto io ho 40 anni che insegno nell'università italiana lo dicevo prima insomma io ho assunto una posizione nel 1984 tra l'altro anno di pubblicazione del famoso libro sul risparmio sono quindi 40 anni e in questi 40 anni ho insegnato materie finanziarie io sono un professore di economia degli intermediari finanziari all'università di Roma 3 economia degli intermediari finanziari è uno degli insegnamenti c'è qualcuno che è laureato in economia qualcuno ha fatto economia degli intermediari finanziari come insegnamento nel proprio corso di studi ecco perfetto a Torino perfetto i miei amici colleghi di Torino adesso non facciamo i nomi poi dopo magari fuori li facciamo sono persone molto care l'ambizione dello studente universitario che segue soprattutto i corsi di finanza è sapere investire bene perfetto ma cosa vuol dire oggi investire bene cioè se noi teniamo conto dei famosi fattori di impatto sociale ambientale investire bene oggi è qualcosa di diverso rispetto anche alle alcune delle teorie tradizionali che noi abbiamo insegnato per anni nelle università anche nelle migliori università e chiudo la finanza comunque e la consapevolezza economica nella gestione del proprio futuro è fondamentale per tutti i cittadini essere cittadino libero vuol dire avere delle nozioni di base per poter dialogare con chi ci propone delle soluzioni ai nostri bisogni finanziari perché qua io una parola che sono non in conflitto di interesse non sono in nessun consiglio di amministrazione di nessun intermediario finanziario sono solo presidente di un'associazione no profit dove sono presente anche delle banche tra l'altro è presente anche Banca d'Italia che mi tutela da qualsiasi critica rispetto al conflitto di interesse beh è importante insegnare di altri d'altra parte scusate noi siamo tutti esperti in medicina in nutrizione non credo io non lo sono ho qualche attenzione che ho sviluppato per esperienza in base a qualche insegnamento mio padre era medico sono stato fortunato ho trovato in casa ascoltare il mio corpo se devo risolvere un problema vado dal medico però devo sapere dialogare col medico devo sapergli dire che cosa prova il mio corpo lo stesso vale per tante altre cose nella nostra vita io penso che l'educazione finanziaria sia fondamentalmente diffondere questa conoscenza di base in che modo quali strumenti e questa è una bellissima domanda secondo me si può fare certamente fin dai primi anni della vita di una persona perché se insegniamo l'igiene o la nutrizione non vedo perché non dobbiamo insegnare qualcosa di economia anche un bambino o una bambina di sei anni il tema è come arrivare e qua ci sono dei mezzi nuovi non lo sappiamo siamo in un mondo digitale però anche qua esistono degli studi che sono stati fatti in cui ancora una volta si conferma come c'è una separazione fra coloro che sono digitalmente avanzati e quelli che non lo sono ma c'è una forte correlazione statisticamente significativa fra orientamento alle tecnologie digitali grado di alfabetizzazione finanziaria e consapevolezza dei temi di sostenibilità e rientriamo in un discorso comunque che riguarda una parte minoritaria della popolazione questo non vale solo per l'Italia vale per altri paesi certo vale meno in Finlandia io ho conosciuto un collega e sì ma sono un paese di mi sembra 7 milioni di abitanti con una storia particolare eccetera noi siamo un paese di 60 rotti milioni di abitanti un problema un pochino più complicato fermo però visto che facciamo ricerca abbiamo prodotto io insieme in realtà l'hanno prodotto loro io faccio ormai il supervisor dati i capelli grigi quindi il supervisore quindi condivido l'idea do dei suggerimenti eccetera con un gruppo di giovani colleghi abbiamo presentato adesso proprio ieri l'abbiamo presentato un paper a una conferenza internazionale in cui abbiamo cercato di mettere sulla base di dati della Banca d'Italia in relazione l'orientamento ai cyber assets quindi alle attività cosiddette cyber quindi digitali cripto cosiddette cripto un'attività tipo bitcoin però nei dati Banca d'Italia non è specificato con dei dati di educazione finanziaria e con dei dati di propensione al rischio che vengono dalla stessa indagine e abbiamo trovato una forte relazione fra la propensione al rischio e anche il gusto del come si dice in inglese gambling della scommessa con la propensione a investire in criptoasset che non sono da criminalizzare assolutamente però è come dire un'indicazione di un orientamento che in realtà c'è sempre stato che è uno degli orientamenti tipici il trader quello che entra ed esce da un mercato azionario soprattutto o di derivati è una persona che cerca di ottenere un vantaggio nel breve termine attraverso questa attività di negoziazione ha un atteggiamento speculativo l'atteggiamento speculativo è un atteggiamento consapevole dell'impatto ambientale e sociale e dei modelli di governance ovviamente no perché guarda ad altre variabili ma qui non siamo più nella financial literacy altrimenti gli diamo scusi scusa siamo colleghi certo gli diamo un'impressione sbagliata io su questo sono molto cioè perché ogni volta spostiamo la linea e quindi uno dice ma qui adesso se io devo essere edotto sui bitcoin noi diciamo sul rischio l'alfabetizzazione è molto limitata cioè vuol dire facciamo attenzione al rischio e quindi non mettiamo tutto in una sola cosa diversificazione cioè dire se sei un dipendente fiat magari non compri le azioni della fiat o se sei un dipendente del san paolo non compri le azioni del san paolo perché non c'è diversificazione non volevo interromperti con il mio no 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 ma è vero bisogna fare attenzione perché la tentazione è di andare sempre un po' più su poi volevo dire una cosa se posso in risposta sua per la parte ti rispondo subito e poi mi taccio è vero è vero questo sono perfettamente d'accordo anche perché un po' il mondo della ricerca tu lo conosci come lo conosco io noi cerchiamo sempre nuove curiosità da soddisfare la nostra attività di ricerca è un po' la nostra malattia siamo un po' bulimici dal punto di vista della ricerca a volte però è un punto ma qua lascio poi magari qualche domanda c'è una componente giovane in sala perché noi però dobbiamo tener conto di questo fatto io voglio dire ma anche a te sarà capitato mentre un tempo mi dicevano professore mi dica se quel portafoglio composto da questi titoli di imprese eccetera può essere una buona soluzione dico guarda io non faccio consulente finanziario quindi non ti posso dire al massimo ti posso aiutare a sviluppare un modello e poi dopo tu stimi i dati e ti fai la tua previsione adesso vengono e dicono ma io avrei investito non dico il nome 500 euro un caso che mi è capitato recentemente su una piattaforma di trading in criptovalute ho fatto bene ho fatto bene però era un giovane perché i giovani ormai fanno questo e lo fanno con bassa educazione finanziaria o consapevolezza tant'è vero che ho detto scusami ma il tuo capitale qual era? eh professore avevo vinto una scommessa e ho vinto 500 euro e immediatamente l'ho messo sulla piattaforma ho detto beh ti sei preso un bel rischio vediamo come va ma forse potevi essere più prudente e magari sottoscrivere un'emissione di titoli di Stato a breve insieme all'investimento nella criptovaluta sì e no perché parlavamo ecco io vorrei solo fare questa sequenza le scelte personali le scelte quelle che in America si chiamano la finanza personale tu l'hai chiamata l'economia benissimo sono importantissime per cercare di non fare errori questo è il primo obiettivo e fare scelte un po' più oculate però noi dobbiamo renderci conto che lo dico così lo butto lì più o meno in un paese come quelli europei metà del nostro benessere dipende da scelte fatte collettivamente cioè da scelte che fa il Parlamento per noi che in parte sono obbligate adesso vi dico c'è un un argomento su quale noi siamo tutti coinvolti ma su cui non abbiamo praticamente scelte è il risparmio per la pensione tu sei giovane ti do del tu quando comincerai a lavorare non ci sarà nessuno che ti chiede scusa vuoi entrare nell'Inps che così raccogliamo i tuoi risparmi e quando sarai anziano ti daremo una pensione e ti racconta come ti daranno la pensione no nessuno te lo chiede che ti dice hai cominciato a lavorare dal primo mese una parte che se sei un lavoratore dipendente vuol dire un terzo del tuo stipendio lordo va all'Inps che tra l'altro non lo mette da parte no no lo usa subito per pagare la pensione magari di tua nonna va bene e questo è il meccanismo di funzionamento lì di scelte non ce l'abbiamo perché il 33 è fissato dallo Stato la partecipazione è obbligatoria non ci sono soldi da investire perché sono spesi subito quando vorrai andare in pensione ci vai quando ti è consentito dalle leggi e la pensione è determinata sulla base di una formula che non scegli tu ma che è scelta diciamo anche lì collettivamente allora voi mi direte tutto questo cosa c'entra con l'educazione finanziaria c'entra perché ci sono molte di queste scelte collettive hanno a che fare con il tema della sostenibilità di cui parlava prima il collega il tema della sostenibilità è anche tra generazioni tra generazioni vuol dire avere riguardo nelle scelte a quelli che sono oggi in vita e votano e a quelli che non ci sono ancora ma che saranno anche loro obbligati per esempio a far parte di questa casa comune che è l'Inps e se noi la casa gliela picconiamo oppure vediamo che ha molte trepe e diciamo vabbè tanto per un po' sta in piedi quando invece dobbiamo rinsaldarla allora noi possiamo votare per l'appunto quelli che ci propongono delle scempiaggini semplicemente non ci dicono che tanto lo mettono in conto a qualcun altro che non si può esprimere allora qui il benessere nostro il benessere dei nostri figli il benessere anche dei nostri nipoti è intriso di elementi economici e io voglio dire che anche qui ci sono delle scelte tassazione quando tutti i governi ti dicono dobbiamo ridurre la tassazione e noi siamo tutti contenti ma non ci dicono che se no riducono anche la spesa che vuol dire qualcosa a cui dobbiamo rinunciare qualcosa a cui dobbiamo rinunciare se no riducono la spesa aumentano il debito e che quindi il debito riguarda o noi un po' più avanti o i nostri figli queste cose fanno parte di scelte solo indirettamente nostre ma sulle quali dobbiamo avere consapevolezza e chiudo io dicendo che siccome io queste cose le ho toccate un po' con mano beh una volta mi sono domandata ma la finance l'economia finanza di base la conoscenza economica di base serve anche per fare delle riforme e la risposta è sì perché noi abbiamo preso 22 paesi 20 e più anni di riforme pensionistiche guardate abbiamo fatto un modellino econometrico preso tanti dati e ci siamo domandati domanda ma i governi che fanno le riforme pensionistiche pagano un prezzo elettorale nel senso che alla prossima votazione non sono votati e la risposta è sì ma ce n'è un'altra che interessa che quando tu metti nell'equazione un indicatore di educazione finanziaria di base di conoscenza finanziaria scopri una cosa il prezzo elettorale scende ancora ma scende significativamente di meno cosa vuol dire vuol dire che quando la gente ha un minimo di educazione finanziaria puoi fare il medico puoi fare l'architetto puoi fare quello che vuoi il fotografo ma se hai un minimo di educazione finanziaria sei anche portato ad accettare di più riforme che sono necessarie nell'interesse di quelli che verranno questo è il punto e quindi questo è un bel modo anche per valorizzare l'educazione finanziaria come bene pubblico come elemento che fa star meglio non solo i singoli per il denaro ma la società nel suo insieme questa è la cosa importante e il tempo sta finendo di aprire un attimo abbiamo ancora dieci minuti quindi chiedo proprio risposte in brevi però aprirei almeno ad un paio di domande un paio di interventi se c'è qualcuno che vuole buonasera accanto alle competenze tecniche che sono state giustamente valorizzate a mio avviso è importante ed è anche forse più difficoltoso sviluppare l'aspetto comportamentale emotivo perché la finanza personale implica delle decisioni come abbiamo detto e quindi a mio avviso sulla mia esperienza è la cosa più difficile nel senso coniugare a conoscenza delle dinamiche economiche aumentano i tassi eccetera ma soprattutto sviluppare e liberarsi da quei bias che tra l'altro la professoressa ha prima citato ma che non sono solo quelli ce ne sono tantissimi e che sono dei veri e propri trappoli che ci impediscono appieno di cogliere l'opportunità quindi secondo me forse anche questo aspetto che magari è meno tecnico è più psicologico se vogliamo ma è importante per riuscire a raggiungere poi gli obiettivi cosa ne pensate di questa cosa? una cosa su questo poi lascio anche agli altri commentare su questa questione dei bias comportamentali ci sono due teorie ci sono quelli che dicono siccome questa cosa è un bias in realtà è difficile contenerlo vuol dire perché non lo riesce a correggere noi siamo stati tutti qua parlando di educazione finanziaria perché pensiamo che invece il bias possa essere corretto non è facile per esempio ho solo una piccola indicazione potremmo parlarne per ora in questo momento sto lavorando con il centro innovazioni di Intesa San Paolo con il laboratorio di neuroscienze per creare un progetto per creare un percorso collegato all'ansia finanziaria cioè per creare un percorso che aiuti gli adulti a liberarsi dall'ansia finanziaria ma siamo dovuti ricorrere ai neuroscienziati quindi non è una cosa così banale sono anche convinta che sapere la consapevolezza aiuta quantomeno a fermarsi un attimo di fronte a quelle scelte di pancia che tutti noi facciamo e non è che nessuno di noi è a uso per cui bisogna ovviamente la conoscenza aiuta non è detto che aiuti sempre a non fare errori sì no ha assolutamente ragione d'altra parte gli economisti si sono liberati da tempo dell'idea di avere a che fare con soggetti sempre razionali che conoscono bene i loro obiettivi e hanno conoscenza anche dei loro vincoli niente da fare spesso non si conoscono gli obiettivi non si se ne mettono insieme troppi e sono contraddittori e non si conoscono bene i vincoli sulle scelte quindi i psicologi i dipartimenti di economia americana hanno psicologi da tempo in memore in Italia è difficilissimo trovare lavori che uniscano economisti e psicologi e che permettano non è il caso adesso di parlarne ma di comprendere le motivazioni nell'ambito per esempio del lavoro dove di nuovo l'educazione finanziaria conta molto oggi senti dire che i giovani hanno atteggiamenti sul lavoro che sono completamente diversi motivazionali diversi rispetto a quelli di una volta è così perché sbagliamo noi nell'educazione cioè non è che l'economia l'economia finanziaria di base la finanza di base risolve tutti i problemi è necessario dopodiché si costruisce su questo difficile dire come eliminare i bias secondo me c'è una grande influenza dei in fondo potremmo oggi per esempio avere influenza noi tre nel dire delle cose perché voi presumo crediate che tutte le persone che vi stanno parlando sono competenti e quindi no voglio dire il tema è fiducia io lo soggettizzo con due termini fiducia e informazione il tema è io ho fiducia se ho una informazione convincente diciamo basata fondata su che mi aiuti a fare delle scelte allora il tema della comunicazione purtroppo su questo devo dire noi siamo come dire andiamo non uso metafore di guerra perché non è proprio il caso però andiamo siamo veramente molto sprovvisti perché la ricerca accademica fa dei grandi sforzi poi in realtà basta un leader politico piuttosto che adesso non me ne voglia qui la collega giornalista un giornalista magari qualche volta anche un professore universitario che invece di fare le ricerche scrive il libro divulgativo e inietta nella società una serie di fake news e questo è importante allora per esempio una delle grandi dei grandi problemi di bias culturale mi fido o non mi fido delle banche degli intermediari finanziari dei consulenti finanziari alzi alzi la mano chi non ci ha mai pensato penso che tutti ci avete pensato allora il tema è la finanza è da sempre nella storia dell'uomo un elemento fondamentale per lo sviluppo economico lo sviluppo sociale quindi chi demonizza i mercati e gli intermediari non fa un'opera buona fa opera buona chi mette sull'avviso rispetto a delle truffe potenziali fa cosa buona chi dice che esistono delle regole delle norme di tutela del consumatore che esistono degli arbitri bancari finanziari costituiti presso le autorità di vigilanza questa è buona informazione per scacciare per esempio l'ansia finanziaria non è un caso che il dipartimento di banca d'Italia condotto dall'amica Magda Bianco si occupi dell'educazione finanziaria ma anche della tutela del consumatore cioè noi dobbiamo secondo me ritrovare anche un po' di fiducia questo è un dato sociale molto presente nella nostra società negativo siamo carenti di fiducia dobbiamo avere fiducia ovviamente la fiducia deve essere ben riposta però secondo me si è sviluppato nel corso degli anni su questi temi negli ultimi soprattutto a partire dalla grande crisi finanziaria inevitabilmente se ne parlava prima con Giovanna un po' di cinismo chiedere di chiudere perché si un po' di cinismo e il cinismo non è mai buon alleato di questa cosa che sta alle spalle che è stato il titolo di questa di questo di questo evento perché ovviamente pone le persone in posizione difensiva o addirittura con paura di non ti fidi però non investi nemmeno nell'autoformazione non cogli le opportunità ecco perché bisogna iniziare da piccoli ecco perché l'insegnamento nella scuola in particolare nella scuola pubblica lo dico perché io poi ho fatto l'università privata però la scuola fatta pubblica secondo me è un bene pubblico e va valorizzato anche su questi temi scusate se sono stato troppo lungo ma non assolutamente io ho visto l'ultima analizzata che mi sembrava è l'ultimo intervento grazie buonasera prima il dottor perviati accennava ai bitcoin quindi domanda su qualcosa che è un po' una via di mezzo euro digitale central bank digital currency sono alle porte in alcuni paesi che hanno già sperimentato daranno un boost un impulso anche sul discorso di necessità di essere finanziariamente avvezzi la risposta io non sono la persona adatta perché ho partecipato recentemente a un convegno su questo tema e con grande amicizia hanno parlato del progetto dell'euro che è stato un po' dicono si è posticipato dirò una cosa piccolissima grazie dottore però io trovo che c'è una grande differenza tra una valuta che nasce nell'ambito di una banca centrale il cui scopo è di mantenere e l'abbiamo visto con tutte le misure che sono state prese negli anni dalla crisi finanziaria a oggi allo scopo di stabilizzare la finanza perché quando la finanza il mondo finanziario non è stabile questo di nuovo è un concetto base l'economia reale soffre quindi soffre il reddito soffre il lavoro soffrono i lavoratori e i loro consumi allora la banca centrale che emette un euro digitale è comunque molto più da considerare che non un privato che inventa monete virtuali allora io dell'euro digitale se la banca poi le cose tecniche non le conosco però io in questo caso fiducia nella banca centrale anche se l'Italia è un paese dove tutti sono banchieri centrali e dicono ecco quella e anche lì fioccano gli insulti di Lagarde avrebbe dovuto tagliare i tassi prima non si domandano se le cose che l'inflazione che avrebbe potuto verificarsi avrebbe magari decimato i risparmi anche dei non grandi risparmiatori non si domanda anche questo quindi tutti sanno troppo tutti quelli che non sanno sanno sempre troppo e sempre sicuri su quello possiamo dire che dobbiamo anche avere un po' di fiducia nelle istituzioni e la banca centrale comunque in questi anni secondo me ha dato abbastanza buona prova poi tutto è perfettibile una cosa su questa perché in realtà c'è molta confusione è giusto per evitare di fare confusione l'euro digitale con le criptovalute non c'entrano niente ok quindi l'euro digitale sulla base di quello che sappiamo saranno 3000 euro a persona che potremmo definire dentro un wallet e potranno essere utilizzati a maniera digitale uno si può chiedere ma perché ci deve essere perché non ci deve essere ognuno è una cosa insomma che ci vuole sperimentare ci possono sicuramente dei problemi anche nel mondo bancario c'è un grande dibattito sull'utilità sui pro e contro della stessa ma con le criptovalute non c'entrano veramente niente non ha niente a che vedere giusto per essere chiari perché se no facciamo un gran pasticcio assolutamente grazie a Dio mi ero espresso la premessa è bitcoin è una cosa stable coin è un'altra cosa è sempre al bank di rancare sia un'altra ancora poi dopo sulle perplessità sul progetto non sono l'unico ad averle tutte le cose sono migliorabili forse anche per quello che è stato un po' reazionato nel punto spostato Giovanna io ti lascerei la parola per chiudere come sì certo assolutamente come ovviamente ti tocca visto che stiamo nel museo che dirigi e quindi per sono onorata di aver avuto qui ospiti Daniele ed Elsa insomma ho un'amicizia una grande stima nei loro confronti ma soprattutto sono gratificata dell'avervi avuto qui nessuno si è alzato poche persone si sono alzate di solito a una certa parto fa anche caldo abbiamo messo i ventilatori accesi lo capisco l'ho già chiesto l'ho già chiesto più volte devo dire che con difficoltà forse riuscirò a farlo nelle prossime le sedie anche prendo atto delle migliorie future però siamo l'unico museo al mondo di educazione finanziaria siamo diciamo così un posto dove si può parlare di denaro in maniera franca e molto insomma aperta con visioni non ideologiche e quindi apprezzate il fatto che siamo qui a Torino e che appunto altre città non lo hanno e sapete cosa faremo? faremo una battaglia per l'educazione finanziaria